L'anno scorso è stato il portiere che, dati alla mano, ha fatto più parate di tutti in campionato. Penso che è un grande piacere con la conseguenza della salvezza perché vuol dire che ho contribuito veramente tanto in questo obiettivo e mi rende molto orgoglioso per un fatto di importanza della partita più che di parate. Perché quella su Piontek, infatti a rivedere mi sono venuti un po' i brividi, ti dico la verità. Quella su Piontek era al novantesimo, perché me la ricordo benissimo e era uno scontro decisivo per noi perché era, se non mi sbaglio, nel mese di febbraio ed è stata una parata puramente di istinto dove è stato un uno contro uno fulminio perché è stata una parata in profondità, me lo sono trovato davanti ed è tutto istinto del portiere che si trova lì davanti e che decide di fare una scelta perché io ho deciso di andare verso la mia sinistra e di per fortuna prendere la parata col piede. Grazie. Grazie.